E c'è un'altra emergenza per gli agricoltori colpiti dall'alluvione nel metà pontino. Crolla infatti il prezzo dell'uva da tavola. Terre Ioni che prosegue la propria mobilitazione invita le istituzioni a dare una risposta efficace. Mario De Pizzo. Gli agricoltori di Terre Ioni che restituiscono i certificati elettorali non intendono votare finché non arriverà un sussidio reale per i disastri dell'alluvione. Ora l'emergenza si chiama uva da tavola, il prezzo è crollato e le aziende non reggono più. L'uva non è più buona commercialmente da mandarla sui mercati, quindi erano le cantine. Noi facevamo fede al fatto che questo prezzo sarebbe rimasto un attimino... In termini di euro? In termini di euro l'uva sta a 6 centesimi, il produttore ricava 6, 7 centesimi, 8. Quanta perdita ha avuto lei? Beh, consideri che da quando l'anno scorso noi abbiamo venduto questo prodotto a 30 centesimi sono da 300.000 euro a 60.000 euro. Quindi quest'anno non ce la fa lei? No, non ce la fa nessuno. Qua c'è gente che non ha più nemmeno il prodotto. Se lei guarda questa parte qui, loro non ce l'hanno manco più. Non hanno manco più il vigneto per l'anno prossimo. Qua le perdite sono così tante che noi non riusciamo più a venire fuori. Per questo si pensa a nuove mobilitazioni. Intanto noi chiediamo ai commercianti che stanno ritenendo il prodotto di scegliere da che parte stare. Di stare con noi piuttosto che contro di noi. Bisogna costruire l'unità di chi lavora sul territorio, chiedere alle due regioni di aprire un tavolo insieme al Ministero, di ricostruire il prezzo delle produzioni e soprattutto di fare in modo che i vantaggi si distribuiscono fra tutti gli attori della filiera. Nelle campagne tra Montescaglioso, Ginosa, Marconi e Bernalda la situazione è uguale al giorno dopo l'alluvione. Solo per pulire non so di quanto abbiamo bisogno. Nessuno è venuto a chiedere quanti danni ha ricevuto. Abbiamo al comune, il comune ci ha chiesto che danni abbiamo subito ma da qui a rimborsarci non lo so. E interventi di sistemazione non ce ne sono stati? No, assolutamente. Non sono nemmeno in programma. Noi non abbiamo, non sappiamo da dove iniziare.